Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Una delle rivelazioni più scioccanti di sempre di Belen Rodriguez La showgirl lancia un commento che sbalordisce tutti. Il nome di Belen Rodriguez ormai è conosciuto da tutti Conduttrice la cui vita sentimentale è decisamente molto movimentata, nell'ultimo periodo ha aggiunto una nuova qualità al suo curriculum Senza peli sulla lingua. Un appellativo che la donna si è conquistata nel momento in cui ha fatto una rivelazione scioccante all'interno del programma di cui lei è alla conduzione Ovvero lei è ne punto ed è proprio a telecamere accese che la donna ha affrontato un argomento che, in molte occasioni, viene considerato come un vero e proprio tabù Di sicuro complice è stata la situazione, un clima particolare che si respira nel momento in cui all'interno del programma vengono fatte delle interviste doppie A coppie in cui, i protagonisti, sono i VIP e la loro vita sessuale Nella puntata del 5 maggio i protagonisti di questa intervista sono Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, per Paolo Petrelli e Giulia Salemi, Eva Grimaldi e Emma Battaglia E così, proprio come leggiamo su Libero Quotidiano, Teoman Mucari si è lasciato trasportare dalla scia del momento arrivando addirittura a porre una domanda molto intima alla collega Belen Ecco come preferisce farlo Belen Rodriguez.Il conduttore infatti, senza pensarci troppo, chiede in che modo la donna riesce a provare piacere E così Belen rivela che, in questo momento particolare della vita, ha un metodo tutto suo per rilassarsi Ed è a quel punto che Mammucari le chiede, molto curioso, cosa fa Belen Rodriguez una volta tornata a casa a seguito di una lunga giornata di lavoro Il conduttore insinua addirittura che la showgirl, per rilassarsi, si faccia una canna Cosa che Belen smentisce immediatamente. Ed è a questo punto che le cose iniziano a diventare sempre più interessanti, una rivelazione che esce proprio dalle labbra della stessa conduttrice Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta? Ed è allora che Belen Rodriguez si confessa, un commento a luci rosse che nessuno mai si sarebbe aspettato Io ogni tanto faccio dell'autoerotismo, anche le donne lo fanno Non c'è niente di male, finalmente si può dire in televisione A quel punto Mammucari calca ancora di più la mano Al punto da affermare che questa è una rivelazione a cui nessuno potrà mai credere Per prendere come veritiere queste parole, il pubblico da casa ha bisogno di una dimostrazione Belen però continua affermando che anche le donne, proprio come gli uomini, amano fare autoerotismo nel momento in cui guardano un film per adulti Momenti esilaranti e particolari, dove Belen fa capire che per lei la sessualità non è un tabù Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao